Sì, sì, è un angelo C'è un angelo Vai, crimi, andiamo a destra Angelo, crimi Chi è che ha fatto questa spaccata? Alfa, io, sono morto io Qualcuno ha fatto una spaccata Rpg, minchia, mi levo No, l'ho sentito gridare, o le allucinazioni Ha granatato Ha granatato Sì, sulle granate ha urlato Chi è che Attila ha sparato? Chi cazzo è che mi spara? Ah, c'è un lì a destra che è passato Sotto il ruscello sono morto I ruscello Una che è andata sulla destra e una qua sinistra Crimici, sei in posizione? Sì, sempre Sempre, purtroppo poca gente a destra Ti ha a sinistra, sono due Sì, infatti Vai, vedi in posizione, vieni Vituccio Vituccio Perché non arrivano a sto giro? Perché arrivano a destra, no? Tutto io, tutti Eccoli Mezzo canno no talk Mi sento gridare Stanno litigando tra loro Ma, ma peri Ma che cazzo da dove? Eh, dalla destra sparano anche Ma sti finchieri buttanazza Ma ora gridano un bel RPG Escono anche dalla casa Guarda che quelli che rischiano con l'RPG sono quelli di destra, non voi Perché Voi dovrebbero Sì, mi sono fatto due volte a me da qua Con l'RPG Sì, sì Anche lo spawn Ho spawnato lì dove c'è Danny un poco più Beh Beh Te ne sei cercata questa, eh Te ne sei sempre Ho fatto un attimo Lì dove c'è Danny Subito proietti Le due ore che ci guardavano Mi spavano Eh, ma non devi distingerti Sennò Ti prevedono che tutti i carico Krimi e Trigger Pone tra due secondi Krimi? Sì Dov'è Climi? Ci sono ieri Cinti che stai Guarda, guarda, guarda Dalla casa, racca Cosa D'orco Dio Preso, preso Guarda lì fondo Sì Luce, dai davanti Non ci vuol dire Sì, ma falli salire un attimo Chi cazzo è che spara da giù? Ciao Ciao Oddio Oddio Krimi, mi viene il dubbio che ci vengono anche da qua, allora Guarda, ci sto io gli trovando Guarda, c'è un attimo Di saperlo alla colazione Che gli ha permesso di colpirmi Che aveva una pila di legne addosso, tipo Eh, ma non è la presa, non è la presa Quello sul balcone Quello sul balcone Quello sul balcone Lo vedi, il balcone Che sto portando Guarda, guarda Ti fanno il balcone Guarda, 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 guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Uh, crimine spalle Nessuno Ragazzi Io vado a lei Ma le crimini Mi fermo Perché vi fanno il culo a paiolo No No Io lo dico Fanno il culo a paiolo, Peter Ah, è un esatto Sto salendo Ai tu aspetto sotto Tassalendo Ma questo Ma che è morto nell'aria Minchè benedettissimo sto qua Eh, io ho fatto prima il video di uno che era nel mare Che viene Va Vieni 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 La finestra la porta La porta Io tengo il cazzo No, Peter, quindi tu ci guardi dietro che non c'entrano in casa E allora guarda la finestra Questa di chi era? Staletta No, era mio raga Per partire Ehi, dimmi, dimmi La finestra è qua Qua Ma sono solo sopra Ma guardi te Io sono morto No, io ho guardato qua Ma prima guardavo tutti i miei Ha sparato, mi è in scivolata Dimi cazzo Sei morto pè? No, però mi stanno Sopprimendo di brutto raga Più sinistro, più sinistro Non posso uscire Mi stanno cadivellando di colpi Boh, crimi, guarda un po' Eh, ce l'è passato bo È la presenza che ritrova Occhio redd dietro Poi, lui in alto dall'alto Due Testa di cazzo Testa di cazzo Voi fatelo? Sì, guarda più in alto, c'è un albero Però dimmelo che molli la porta Perché mi devo girare io Dio Hai ragione Subito, te lo dè Vettore è morto Lo senti? Sì, ne ho fatti fuori quattro Ho preso Mazzalmosco Però poi Non spesponare Vai Occhio redd Ti copro davanti Tu spara sempre di lato No C'errima 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 Ma quanti ce n'erano qua? Danny sono io in casa eh Mirami sul dritto redd Sì, sto coprendo fuori Ale Che tanto sono quelli che arriverebbero comunque nel punto che... Merda Eh, auguri Porca la madonna Raga, ma piuttosto se stessimo al posto che stare qua a farci tirare dai... Beh, no, 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 Ale Andiamo Beh, sei No, io Mi chiedo Vieni, mi chiedo Vieni, mi chiedo Il rispondi sta zona qua è veramente un'ammerita Ricerzo Occhio Preso Preso? Sì Viente basso Preso un altro, preso un altro occhio occhio Eh Qua 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 qualcuno, Ale Aspetta, da dove? Ah, lo vedo Merda Occhio nel fiume, eh No, no, è pieno nel fiume Io attraverso Ale, è inutile aspettare Eccolo Oh, cazzo Ho attraversato Ricarico Ok, ok Ok Reloaded Cremi attraversiamo? Sì Vieni Danny Sì, ne ho fatto uno su C Via dalle finestre Guarda a sinistra, eh Libero Libero Chi lancia? Dai, io ci sono la frag Io Vabbè Vai, lanciate anche voi Aspetta, mince, mi dovevo andare a posizionare bastare Anche anch'io Ma ora non conviene che avanziamo? Avanziamo Sì, 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 subito All'era avanti Vai, 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 giù, giù Rpg Mi ha quasi preso Ma vabbè No, vabbè Ma vabbè Guarda, io guarda, le pg ce l'hanno con me o stasera No, no, mh Io non sto giocando Sono fatto No, sto giocando Cioè non ho tempo di spawnare, fare due passi che sono morto Luca mentre attraversava l'ansegato Si, ho preso Sì, ho preso Preso, preso Preso quello di focaccio Raga dopo questa Che palo, la chiudiamo, vero? Sì Sì L'ultima L'ultima ultimato vale eh che palle mamma mia scusa red tranquillo ma è pieno lì avanzo eh ti avanzo oddio questo che cazzo l'ha tirato oh lo vedo tu lo vedi red io lo vedo di mezzo mi sparano però presa era lontanissimo fondo a un colore per favore sto avanzando suddia arrivo venite venite ritengo la posizione di prima il carico vieni arrivo no qua fuori vieni qui dove sono io vieni qui dove sono io girati qua sopra mettiti qua e copri crimi vieni qua stai dal pick up insieme a me vieni qua dal pick up stiamo in due gli altri ci guardano il culo e il lato noi guardiamo davanti io riesco a vedere la rientranza e i muretti non vedo un cazzo da alcun stai giù e sporgiti solo stando accucciato ecco li li vedi i primi ma io ti copro dalla casetta ma eccolo li mortissimo vedi vedi perchè dovevo stare in casa vedi perchè dovevo stare in casa ti arrivava lo stesso in casa non bisogna stare mai vicini mai 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 siamo vicini siamo vicini dovete mantenere il punto red ti conviene mai ti conviene avvicinarti red perchè siete in due si ma io lo vedo da dove arrivano arco demonio 15 secondi dai 15 secondi non è buona dalla valle dalla valle red stai buono eh come faccio state giù no no infatti trigger stai buono ok te li fa red rpg wards rpg wards di nuovo tutti veramente scappa a me prima mi hanno fatto qua con l'rpg scappate veramente eh allo spawna quel puntino nooo aspetta fammi sporgere mi sporco mi sporco mi sporco non riesco più a risalire nel punto dove ero prima per coprirvi dall'alto quindi mi tocca occhio lu avanzare davanti al trigger eh dalla destra lu se c'è scusa sinistra sinistra sorry ma penso ce ne siano ancora vedi io guardo dal muretto eh ricarico no trigger stai attento dietro a questa roccia qua raga tanti dietro la macchina azzurra no scusa 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 Danny che ne è il culo a freddo proprio ti ho sparato eh macchina azzurra nel pino nel pino ti ho detto macchina azzurra nel pino e adesso è il pino guardate il pino eh hai fatto? l'alpinista è morto nel pinuccio avanzo qua dietro risposto oh è un gallo ecco 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 parole in inglese a casa come al solito c'è il gico io sto a destra si anch'io 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 stiamo tutti a destra anch'io 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 red frierie ragazzi guarda la sinistra destra abbiamo tutti a sinistra che fa mi sono girato occhio che le ministra destra e palestra di un padre sto sparando mi chiamano i miei davanti tra ieri davanti ora dalla destra ragazzi io dirò che io le salto 4 4 non muoiono no per il marzo torco 2 non posso girarmi qua in quarantena possibili indietro rosponate guarda la sinistra risposto però non so se ci sono gente nei pini o altro gente pd bocchia rossi non ho trovato anch'io occhia primi oltre destra basso della rotta un'altra cosa si prende le mie non ti muovre non ti muovre troppo per il giro via preso avanza avanza crimi dell'interno copremi il diritto ma io devo ricaricare con il rito ci genti tanta gente destranea tanti guretti 10 italiani vuoi che vado io no no stai buona tenimi dritto come prima no fucoccio mi ha fatto babba babba no ma chi mi ha fatto no no seriamente dove sei avantiato tizio qui stavo mirando che ho colpito non è morto ho uscito anche me chi è che c'è lì davanti danny danny dimmi ok niente l'hai fatto quello che stava scendendo no io non ho fatto niente devo rifornirmi quanti siamo rimasti io sono rimasto ma devo tornare sullo spawn ho finito i colpi 1 2 3 4 5 si ok ci sono eh qua lo vedo sono per ultimo ok ah è un giro 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 a destra qua vai avanti vai avanti e guarda la sinistra ma che la sinistra è un giro e lo stai dietro l'ancor appena dietro l'ancor eh sì ma è di sinistra o di destra io sono qua alla mia destra cazzo ok ok me la abbiamo a sinistra hai rischiato tantissimo lo sai entrate in sta cazzo di casa e basta e la luce volta mi son buttato anche io così da quelle due pietre sono morto scusa minchia sprinta in casa povera ora ora sbagliateli bufali evitiamoci evitetevi tutti evitetevi tutti spero che non esco francese mi metto fuori io esatto tutti fuori appena conquistiamo così evitiamo di prenderci botte io ci vado già adesso in culati vabbè velocizzavi la conquista tutto qui non mi piace qua dentro non mi piaci ma stai qui dentro ok ho tornato non mi piaci ti sposto beh non questiamo andiamo vieni qua con me eh che copriamo la casa primi lo teniamo in due quel punto occhio ah ho capito ho capito dove ti sei messo mi sparo occhio da sinistra primi ma dalla porta via alla sinistra dalla casa da fiori dai non riesco a sparare da lì mi sposto un pelo più sulla destra ok mi sparo barata che merda minchia qua è uno qui eh io mi sa che è sì no l'ho già fatto mi sembra di aver fatto quello lì bastardo era sguisciato via velocissimo mentre spravio quell'altro era un bel alfa eh ce n'è uno nel basso del basso sinistra scusate davanti a Danny davanti a Danny da prendere io ragazzi avete sinistra ah sinistra si si ci vado io so io dove sono ok basta io sono a posto ti chiedo hai preso hai preso ok però oh c'è in casa c'è in casa si ho visto che sparavano dalla porta di quella casa lì davanti a noi no ah ok l'hai fatto posso andare a recuperare ammo aspettatemi no 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 si dà già me Ale mi sposto oh sorry mi sposto ce n'è uno che mi ha sparato dalla casa l'ho preso oh morto da dove eh niente sono passato davanti a chi mi sparavano e mi ha fatto vabbè e stare dalla casa l'ho fatto eh colpa mia colpa mia colpa mia colpa mia devo passarti dietro ma non t'ho visto sto attraversando il fiume io eh ragazzi c'è uno che mi sta sparando da me che sono in alto ma non lo vedo chi è che è morto? sono lo stronzo di turno si raga io sono dentro sì ma dentro conviene piano basso eh preso conviene passare da piano alto e poi scendere piano basso ok Ale sì stiamo conquistando i trigger dai ma poi scendete non serve più niente non ci credo ma sti tu e Luca no io sono lontano ok no è Luca ok era bello duretto eh è morto Red, Danny e Creamy eh che ho fatto tab ho visto chi c'era oddio oddio quanti se vedi quando registro che faccio tab è perchè guardo chi è morto e chi è vivo coglione crepa basso basso andate totto e in quattro chi siamo rimasti? Lu guarda sul dritto e Ale ti guarda dietro oh a sinistra a me dici? sei troppo avanzato lì Lu per resistere sì lo so mi hanno fatto non so da dove ma no c'è Ale ti conviene guardare a destra a destra a destra a me sono entrati di qua l'altra volta ma l'ho fatto eh da qua eh sì ma sono entrati senza che me ne rendessi conto ne era arrivata una sfizia dei 3 o 4 sì sì quello l'ho ammassato guarda fuori guarda più in alto guarda i legni destra legni dietro dietro Lu Lu dietro hai visto Ale davanti all'interno fatele devi tornare ma l'hanno fatto vado dentro quella cazzo di casa Ale macchia minchia ma che cazzo fai? dov'è li stanno? eh lì sinistra dai due secondi un secondo no io non ci sto capendo un cazzo con le nostre informazioni sono al pieno di sopra stanno conquistando non ci credo eh ma che cazzo dici? sono giù guarda sì no 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 ma stavano conquistando senza esserci senza esserci perché voi non eravate fisicamente sul punto dato che i punti avviano di sopra troppo forti eh dai dunque io ho rischiato tantissimo prima chi è che passa a destra con me? è lungo io ho mantenato giù a me ho visto io praticamente dovrà passare no perché non ho di fronte aspetta che mi tieni in scacco che c'abbò già qua solo a destra pè io pina mio provvedimento cardonata vi ha fatto così sì sì lo so però o ppi dei tpi via metodo medico mi ch поступY c'è una mira morto 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 loro è ricarico e io ho notato lontano giù giù ce l'avete ma no io ne ho presi alla mia scuola per costruire acqua al mio sto guardando il lungo ma se vi fate raggiungere anche dagli altri due chi è che è fatta un attimo uno stop ragazza per lasciando fermi un attimo sette di oggi 1 riunite crimi e crimi seguiti di terni riunitevi corretti è pericoloso star point aperti vieni vieni crimi vai 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 io entro nella casa vai vai io copro cerco di coprire no era di qua cazzo si fate il giro esterno da te vai seguilo no non si può passare a dove sto facendo io si che si può no no è zona chiusa ricarico venite in casa di qua è zona prebita si dritti è zona prebita l'ultima volta non l'ha fatto fare io corro eh nella zona finale te lo fa fare così norma andate africano quando gli andato con me very low la zona finale e di imagine ciao mi ha fatto Ciao posto per i amici andiamo andiamo perchè quale arriva di un po' di matina di una bomba tutti i miei mette giusti giusto quindi anzi non è che io voglio quello posto la lega di per gli aspetti col cavalletto non morire non morire mi aspetto sono una proposta porta dietro preoccupare dopo dopo che mi è partito un colpo dio cristo mi devo ancora avanzare io sono sponato veramente sul fondo verso i lì la piccola finiti stai facendo a casa sparando sui non avevi la tag ma io più che altro sono sponato a bagage sono occhi dietro furgoncino lu troppi davanti ma non poi non è reddito vorrei quando volete avanzare ditemelo che vi dico se è libero no reddito sono sono uno sponso devi passare dentro negli edifici venire sul lato destro con noi allora lì qui sembra libero però non ho la vista sul lato destro attraverso attraverso movimento movimento fermi 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 allora ricarico ehm ne ho tolti due a caso tra l'altro si vado ad avanzare proviamo ad avanzare ma cosa? sei sul reggittino vai lì in dritto antiterraneo non possiamo passare dentro il garage non era uno poco fa lì a destra quindi non sarà l'unico ok sono con danny io eh si si siamo tutti insieme cioè vai danny peter trigger cercate di starci dietro sei basso eh qui ti sto nella schiena la schiena che è una carnefici ok ora ne spuntano guardate nei pini eh nei pini ne spuntano la bomba raga dai adesso dobbiamo conquistare allora è resistenza no? si ma tipo già di qua da questo tunnel ne spuntano veramente troppi dov'è che sei? che ti raggiungo? qua qua ci dovrebbe essere danny qua fa una strage se vuole è morto qualcuno? sono tutti vivi dai eh si si dai ci vengo niente non posso neanche riformirlo primi vieni qua ti consiglio di aspettarli eh no no aspetta io sto qua l'ultima volta qua con Luigi ho spaccato tutto si ma ne arrivano a bomba di qua anche eh si si ma vabbè sto sdraiato qua io beh anche di qua centrale arrivano eh ma io infatti sto guardando lì no non ci viene nessuno da dove siamo spawnati i nuovi ma resta lì pendoli nilu tentoli sei un po' avanti a vista decisamente l'altra volta io all'abbiamo voluto fare i deficienti qua e ci sarei oh oddio oddio si rimanevo lì si rimanevo lì esatto un'altra volta cazzo sono io sono io che sparo ricarico si ma qualcuno che guardi qua dal cancello insieme a me io io rovenco ci sono io ok dritto quindi proprio secondo me si c'è comunque dobbiamo coprirlo anche se c'è red su che già vieni fa vieni su tu Ale vieni su tu io sto basso ma che cazzo vengo su? stiamo bassi e basta vieni vieni a prender su portateli magari lasciamo petar su oh beh vuoi venire qua dove sono io? lascialo lì vieni qua ragazzi ho un po' di cosa che resistiamo a cinque no ci sono io qua vieni qua dai dindri è che dai chi una mano dai lascia una granata a caso eh mi dovrei mettere davanti a lui ma non lo fag allora eh niente raga aspettate trisci davanti va eh lasciateli avanzate minchia di sento minchia tantissimi sono tantissimi eh da lì non avanzate voi fateli venire da dove? non capisco da dove Vito ci si si dalla casetta oh sto qua ma fatto ma fatto bravissimo quello minchia un dio è stato dai alle resisti ci sono io vengono le stai indietricce indietricce abbiamo vinto non ho ucciso uno io fai te io ho uno solo della bordo solo uno e poi di quello ho fatto un po' di breakdance ho fatto un po' di focaccione si questa comunque l'avevo registrata grande ok mi ha fatto man bassa di mappe stasera